Assessore, questa lettera è partita o no? No, la lettera non è partita, però è chiaro che ne stiamo parlando. Ieri c'è stato un comitato per l'ordine della sicurezza pubblica, non so se lo sapete, c'era stato un comitato. Quindi un accenno è chiaro, però la stiamo formalizzando. Però io penso che nel giro di pochi giorni sarà concretizzata. Che cosa è uscito da questa riunione del comitato per l'ordine della sicurezza pubblica? Noi avevamo sentito anche il questore, non dico scettico, però ricordava che tra i compiti dell'esercito non ci sono quelli di polizia giudiziaria. Non è stato un comitato, non è stata assolutamente valutata questo aspetto qui. Noi no, è tenuto completamente fuori questo dell'eventuale intervento richiesta dell'operazione strade sicure. Non è stata assolutamente trattata in serie di comitato. A margine, io mi sono permessa di scambiare due parole col prefetto sulla preparazione della cosa. Ma insomma, però sarà formalizzata credo fra pochissimi giorni. Grazie a tutti.